Il finanziamento si arriva a 44 miliardi di euro, 4 se non vado errato erano già stati anticipati nel 2021 e con queste risorse vengono finanziati 7 interventi. Quindi anche qui si concentrano le risorse. Un'altra cosa della quale ci siamo resi conto è che in alcuni casi le risorse venivano spese su moltissimi progetti che alla fine lasciavano un impatto molto limitato. Quindi noi abbiamo cercato e cerchiamo sempre di concentrarci su alcune priorità. E qui le priorità sono, come si è detto, sicuramente il tema del diritto allo studio, sicuramente la questione della transizione energetica e quindi lo studentato universitario a Palazzo Cogne qui ad Aosta. Strumento per difendere il diritto allo studio ma anche per rendere l'Ateneo più attrattivo. Perché con gli strumenti che si mettono a disposizione si può fare un lavoro importante anche per la collocazione di mezzi.